Proprio in virtù della richiamata trasparenza ho indetto questa conferenza stampa per dichiarare alla città, alla mia città, la mia assoluta estraneità ai fatti contestati, essendomi limitata solo a chiedere se per i sindaci della provincia di Napoli qual è appunto mio cognato, erano previste deroghe per il transito afferente a motivi istituzionali. Questa è la verità, la pura, sacrosanta verità. Questi i fatti che hanno costituito il motivo occasionale dello scadenarsi della macchina del fango. Settori e soggetti politici interessati, quelli compiacenti rispetto alle lobby contro cui ho sempre lottato, hanno cavalcato cinicamente talune incondate in discrezioni giornalistiche che nell'immediatezza avevano riferito di centinaia di multe annulate apparenti e amici, cercando di generare del tutto proditoriamente nell'opinione pubblica l'infamante convincimento che io avessi in tal modo fatto favori apparenti o amici. Proprio per il mio rigore, per la mia specchiata moralità, mi sento profondamente offesa dalle accuse vigliacche di coloro che non conoscono la realtà dei fatti su cui sta indagando la magistratura, alla cui valutazione mi rimetto completamente e nel cui ho operato completamente fiducia. Così l'assessore allo sport Pina Tommasielli, in attesa che il sindaco De Magistris decida se accettare o meno le sue demissioni, questa mattina nella sala giunta di Palazzo San Giacomo ha voluto parlare ai suoi amici, ai suoi concittadini, a tutti coloro che conoscono la sua rettitudine morale. Parla di un attacco concentrico nei suoi confronti, di una macchina del fango, subito dopo l'avviso di garanzia. Voglio chiarire alla città, ha detto la mia assoluta estraneità ai fatti. Un passaggio poi sulle dimissioni, ho rimesso formalmente le mie deleghe al sindaco per essere libera di agire e capire le vere motivazioni che sono a monte di tali improvve aggressioni. Non ho mai, afferma la Tommasielli, abusato della mia posizione politica, del mio ruolo per ricavarne un vantaggio. Poi un ricordo all'elezione del 2011, quando finalmente la città di Napoli fu liberata dal movimento arancione. Chiosa finale, la Tommasielli si appella direttamente ai concittadini. Continuerò a lottare con voi e per voi, con la forza della rettitudine morale, sempre così, in modo semplice, con schiena dritta, testa alta e soprattutto mani operose e pulite.